La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, sul suo profilo Facebook, ha invitato i cittadini a limitare il conferimento dei rifiuti a causa dei lavori ad una linea del termovalorizzatore di Acerra. Lo stir di Battipaglia, spiega la sindaca, è a regime ridotto a causa del fermo per manutenzione del termovalorizzatore di Acerra. Per questo motivo invito tutti a limitare l'esposizione del secco indifferenziato, che viene raccolto da calendario il martedì, e a limitare la produzione di rifiuti, differenziandoli il più possibile e meglio, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento.